Bella a tutti ragazzi, oggi siamo tornati, siamo tornati sul gioco di Kenshiro, oggi hanno dato un sacco di gemme ho trovato, cose inimmaginabili vi dico, ho trovato lui, il personaggio che più cercavo dopo Shin ecco qui il mio team, è gli sparti, ragazzi allora ho trovato questo, me lo fai vedere, devo andare in fighter, ho trovato, dove, eccolo qui, lui, nuovo molto forte, tanca un sacco, poi c'è lui, che più cercavo dopo Shin, è forte, molto molto forte, però poca difesa eccolo, è sbagliato, questo mi piace, eccolo qui, lui, Giagi, molto, ha l'attacco bello forte, anche se ha più vita, poi ho trovato, dove? dove? o almeno, nuovo lui fa schifo, proviamo un po' ecco, cominciamo ecco ecco si, c'è, fa schifo indicesa, però è un bello affatto poi hanno trovato, mi pare, eccolo qui ecco è bello affatto, io lo sento, quando lo ho potenzio come vinto ecco qui, dai eh eh, neanche più di tanto lui lui è il più forte questo è il più forte che ho un sacco di atta, no, è troppo forte che ho tipo, ah, ho trovato, poi c'è una genetina lui 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 io 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 sto cercando lui lui che non serve e talver vabbè, anche lui si, si, si ok, andiamo a fare la storia bellissima il boss che basta ragazzi non diamond caschi r in terno da s r in poi in il il ragazzi che siamo siamo stiamo stiamo in non non il il Questo è il suo luogo e si dormono in questo luogo. A continuare a fare il suo luogo del gioco. Ma per i che siano luogliosi, i stagione di aiera al luogo. eo sui kakar attacca mai voi è il mio preferito di attacca questo che vuole a finta allora me lo faccio vedere non voglio farci vedere ecco qui lui è troppo è un po' svingo 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 svolto guarda come cammina è un po' svingo è un po' svingo con la bacchetta io sono il nuovo più caro al mondo non puoi secret oh oh è un po' svingo 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 che io non ho mai visto non ho mai visto non ho mai visto ma è importante gli occhi vedessero mi guarda un po' svingo a 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 30 400 ok ok boss quello lì che avevo trovato prima ragazzi che dire a 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